Lila era d'origine buddista e nel suo paese c'era la malaria, tutti i bambini adolescenti non vivono, erano due aritini, anche la sua figlia stava morendo e era morto. Un pastore vuole pregare per lei, il giugno si recone, c'era il titolo della figlia che era morto, passi davanti, 5 minuti, 5 minuti, prego per lei e che questa bambina si risveglie. E lui passò la punta all'impianto della città, zero, o meno potente. C'è una bambina molto importante per la bambina perché non hanno accettato il loro bagnamento ma non ha importato più di farlo, lui segue il seguito. Vi dico che è uno strumento in Italia qui per i suoi professionali che sono più bello. Ma è che io sono stato un nostro pericolo in Chiesa, l'ora del Signore con una grande semplicità e con un grande amore del suo ministro. Ringraziamo il Signore per il miracolo che fa della nostra vita. Amén. Salvevo, venite a passare. Grazie. 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 Grazie.